Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Scusate, ieri non ho fatto il video perché mi è venuto un mal di gola tremendo che fortunatamente mi sta passando. Quindi ritorniamo all'American Cup con la conclusione del primo turno. Ho scelto per voi la partita tra Caruana e Robson, un'altra partita strategicamente e tatticamente stupenda. Dopo due patti a tempo classico, i due giocatori devono giocare gli spareggi a 10 minuti. Ne verrà fuori una partita, una posizione di una forza incredibile. E allora non dimenticate di like al video e partiamo subito. Perché Caruana di bianco apre la partita con D4, Robson risponde con cavallo in F6, C4 e 6, G3, l'apertura catalana. E allora il nero giustamente spinge al centro in D5, il bianco completa il fianchetto alfiere in G2 e alfiere in B4 con scacco. Vi ricordate questa idea? Continuazione principale del bianco è giocare alfiere in D2. Il nero riporta l'alfiere in E7, lo ha messo al punto giusto. Ma questo alfiere campo oscuro del bianco si dovrà rispostare. Allora cosa fa Caruana? Gioca la seconda mossa più giocata. Gioca direttamente cavallo in D2. Allora rocco corto per il nero e anche il bianco dovrà arroccare il prima possibile. Cavallo in F3, D per C4 e il pedone è salvo perché il cavallo è inchiodato. E allora arriva donna in C2, si vuol riprendere il pedone. Continuazione principale del nero è A5 e invece con il re bianco ancora al centro, aggressivo Robson, gioca C5. Caruana preparatissimo, gioca a rocco corto. Pensate, soltanto due partite dopo 8 mosse in database con questa posizione. La più importante è la vittoria del forte Daniel Friedman di bianco di due anni fa, del 2021, si. E allora il nero C per D4 si è portato avanti di due pedoni. E allora il cavallo, che non è più inchiodato, cattura in C4. Cavallo in C6 protegge. Friedman aveva giocato A3, che è sicuramente buona. Caruana gioca la novità, torre in D1. Ora fermiamoci un attimo. Ricordiamoci che Robson ha un pedone di vantaggio, ma il pedone D di Robson è sicuramente spacciato. La pressione è già tanta, la torre è sulla colonna della donna nera. Sta per arrivare con tempo A3, B4. Probabilmente arriva anche B5 e gli toglie un difensore. Il pedone non sarà assolutamente difendibile. Allora cosa pensa di fare Robson? Perso per perso toglie la donna dalla pericolosa colonna D. Donna in E7 arriva a 3, alfiere in D6, cavallo che si riprende il secondo pedone minaccia pure di portarsi in vantaggio D1. E allora cavallo per cavallo, la torre ricattura e ricattura con tempo. L'alfiere sotto attacco si porta in C7, torre in D1. Fa bene Caruana, non sarà la mossa più precisa del mondo, ma la torre non sta bene al centro della scacchiera in questa fase di medio gioco. E allora torre in B8, ricordiamoci sempre dell'alfiere in fianchetto, vuole liberare lo sviluppo dell'alfiere Campochiaro. Alfiere in D2, già connette le torri, rifermiamoci un secondino. Ora qui si nota, no? Chiaramente che il bianco ha i pezzi più attivi, perché questa torre è ancora ferma. Guardate invece la bella torre centralizzata del bianco. L'alfiere in fianchetto ha un bersaglio, l'alfiere chiaro del nero è bloccato. La donna, quella bianca, è più attiva, addirittura la forza dell'alfiere Campooscuro. Quello scuro del nero sbatte sulla catena pedonale. Quello del bianco addirittura, attenzione alla terribile minaccia, alfiere in B4. Quindi si nota che il bianco sta meglio, ma il computer gli dà più 3 di vantaggio. Incredibile, come se avesse un pezzo di vantaggio. Allora, torre in D8 si toglie dalle grinfie di alfieri in B4, che però arriva lo stesso, e scaccia, spinge la donna in E8. Cavallo in D6 attacca la donna. E qual è il problema di questa cavallo in D6? Che la donna, se si sposta, finisce sempre sotto un attacco a raggi X. E allora il nero è costretto a cambiare l'alfiere sul cavallo, quindi a perdere la coppia degli alfieri. Alfiere per cavallo in D6, l'alfiere ricattura, anche la torre è rispinta indietro in A8. Alfiere in C7 attacca la torre, torre in D7, torre per torre. Ora, attenzione, come si riprende? L'alfiere non può riprendere, o si perde il pedone. Se si riprende di donna, torre in D1, che arriverà sicuramente, ma arriva con tempo. E allora Robson riprende col cavallo. Torre in D1, A5 per liberare la torre, donna in B3. E allora questo B7 diventa il bersaglio. È messo male Robson, gioca H6, donna in B5. Guardate, è tutto sotto attacco, è tutto sotto attacco, dominio totale. Veramente Caruana ha creato un setup di abodico. Oltretutto 2-4-6 sta per portarsi avanti di un pedone. E allora salva il pedone A, ma arriva torre in D4. Tutti i pezzi mirano ai pedoni. Allora donna in E7, che cosa fa? Schioda il cavallo, è tempo di portare legna in cascina. Alfiere per pedone in B7 minaccia la torre. Ora attenzione, guardate che brutto. Se la torre si sposta, si perde un pezzo pieno. Non si può portare naturalmente in B8. E qui che si fa? Se l'alfiere cattura il pezzo, e probabilmente l'alfiere per l'alfiere in B7 è l'idea migliore, il bianco il pezzo se lo riprende, attacca da donna e questo gli rimane sotto attacco, e allora gioca E5. Robson attacca la torre, basterebbe rimanere con la torre sulla colonna D per mantenere tutte queste terribili minacce sulla scacchiera. Un'altra idea buona di Caruana. Alfiere per pedone. Si porta un pedone di vantaggio. Anzi, si porta, scusatemi, due pedoni di vantaggio. Ora che succede? È inutile andare a vincere il pezzo, si perde la torre piena, e allora il nero gioca torre in A7. E allora alfiere per alfiere? Ha vinto un pezzo, e allora bisogna riprenderlo con la cattura di cavallo in E5. Caruana però ha due pedoni di vantaggio. E allora torre in E4, attacca il cavallo per la seconda volta, lo inchioda alla donna, e il cavallo va difeso giocando F6. Ora voglio farvi vedere un'idea difensiva da tenere sempre a mente, un'idea che mi è capitata in una blitz che ho giocato io recentissima, e che naturalmente non ho visto. Però me l'ha fatta ritornare in mente questa partita. Ora, come mai Caruana non giocherà la comunque ottima F4, che sembra vincere sicuramente un pezzo? Guardate che succede. Dopo F4, certo, il cavallo non si può spostare, perché è inchiodato sulla donna, ma il nero può fare la stessa minaccia. La donna si porta in D8, attacca il pezzo sospeso. Se l'alfiere... Quando l'alfiere si sposta... Ora, attenzione a come si sposta il cavallo, perché se il cavallo si sposta male, arriva torre in E8 con scacco che vince la donna. Se il cavallo si porta in D7, se non sbaglio, c'è un'inchiudatura micidiale, torre in D4. E allora cosa deve fare il nero? Di nuovo la solita minaccia. Torre in A5, donna in B7, adesso sì, il cavallo si salva, il nero ha salvato il pezzo, seppur in una posizione persa. Guardate, tutti i pezzi scoordinati. Ma ricordiamoci che ci si può difendere anche facendo la stessa minaccia. Ritorniamo indietro. E allora in questa posizione cosa fa Caruana? Torre per pedone. Tre pedoni di vantaggio. E allora qui andare a cambiare vuol dire aprire la porta alla vittoria del bianco. Torre in C7, alfiere in F5, attenzione a torre in A8 con scacco, perché il re non ha spazio, arriva a G6. Torre in A8 con scacco, deve arrivare lo stesso. Re in H7, il pezzo si può lasciare in presa, donna in B8, ci sono due case di matto. Allora donna in G7, le protegge, è il momento di spostare l'alfiere. Alfiere in E6, arriva a H5, e arriva a B4. I pedoni passati connessi, iniziano la loro marcia. F5 si tenta un controgioco, naturalmente, sul lato di re. Disperato e dir poco, arriva a B5. H4, G per H4, re in H6, con vantaggio di materiale enorme. E allora, donna in H8 con scacco, è un cambio donne da manuale. Donna per donna, la torre ricattura con scacco, re in G7, torre in C8. Di nuovo, si cerca di semplificare. E allora, torre in B7, il pedone avanza in A4 e protegge quello in B5. Re in F6, alfiere in D5. Torre sotto attacco, si porta in D7, protetta da torre in C5. Re in E7, e arriva a B6. Re in D6, torre in B5, addirittura dietro il pedone passato, proprio la posizione perfetta della torre. e allora, torre in H7, si, fa una minaccia, ma mai grossa quanto i pedoni che avanzano. Arriva infatti a 5. Cavallo in D7, alfiere in F3, cavallo in B8, non vuole permettere A6, e allora arriva, prima lo scacco, torre in D5. Re in E7, torre in D4, protegge il pedone, minaccia di portarsi dietro il pedone A, e allora, torre in H8, re in G2, perché ricordiamoci sempre, non c'è furia nei finali, soprattutto quando sono vinti, quindi migliorare la posizione del re, sicuramente è cosa buona. Quindi re in E6, arriva E3, re in E5, alfiere in B7, e allora non serve la torre qui dietro, arriverà la spinta A6. F4, naturalmente non si può catturare, ma la cattura del nero, non fa danni, perché il pedone ricattura, e arriva A6, F per E3, F per E3, sta per arrivare A7 con tempo, e poi anche A8, Robson costretto, a sacrificare il cavallo sul pedone, cavallo per pedone in A6, l'alfiere ricattura, torre in B8, arriva B7, e Robson abbandona. Abbandona come mai? Abbandona perché qui c'è poco da fare, dopo torre in G8, in qualsiasi modo, ma anche se la torre fosse rimasta in B8, col pedone protetto, e qui sta per arrivare torre in C4, torre in C8, e la partita finisce qui. Raramente ho visto una catalana così forte, veramente si è inventato, Caruana, un setup incredibile, e ha dominato un giovane fortissimo come Ray Robson. Allora, ditemi, se giocate anche voi la catalana, come vi è sembrata, a me è piaciuta moltissimo, come al solito, vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, non dimenticate di iscrivervi al canale, aiutatemi a farlo crescere, e noi, gola permettendo, ci rivediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie! Grazie! Grazie.